Ciao a tutti! Dale! Dopo tagli? Allora, siamo al coso di Michele al concerto di Michele e lo stiamo facendo alla fila perché credo... Sia inizia Sì Tanto ormai siamo in fondo, è deciso Esatto, quindi... Quindi così E poi abbiamo incontrato Chiara Cusi Sì, un altro youtuber Che è molto simpile Molto simpile E quindi forse faremo un like qualcosa Qualche video Speriamo Sì, spero Vi lasciamo al resto del vlog Ciao! Siete? Ma ci fai? Siete? Come stai? Come stai? Mani Vi so stupi 不是 Grazie. 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 Grazie.